Grazie per l'aiuto. Senza di te sarei finita nei guai. Ho fatto soltanto il mio dovere di compagnia di banco. Vabbè, amica. Amica, non puoi capire che ansia quando ci hai beccato che ci baciavamo io e Pietro. Baciavamo? Ma non era stata lei a bacere lui? Mi hai guardato in un modo. In che modo? Ehm, con la faccia di una che voleva prendermi a schiaffi. Eh dai, faccio sempre in tempo, eh? Ma ti piace qualcun altro? Ah, siamo già così amiche? Senti, ma... Sei stata tu a baciare Pietro? Sì. Ma sai perché di solito è lui che si butta e ci scommette pure? Pietro è un bastardo, te lo dico. Pietro chi? E io non ti ho spesso un Pietro. Ecco così ti voglio. No, non ti ho spesso un butto. No, non ti ho spesso un po' No, non ti ho spesso un po' No, no ti ho spesso un po'